Il comune di Agropoli, in collaborazione con il distretto sanitario 70 e l'ASL Salerno, ha organizzato due giornate straordinarie di vaccinazioni riservate ai non prenotati. In particolare sabato 1 maggio si terrà un open day per il recupero degli over 80. Domenica 2 maggio, la mattinata, sarà riservata alle vaccinazioni degli utenti appartenenti alla fascia di età 60-79. In entrambi i giorni il centro vaccinale resterà aperto dalle ore 9 alle ore 13 e sarà possibile effettuare l'iscrizione sulla piattaforma direttamente in loco. Gli utenti dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria. Queste le dichiarazioni del sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Le vaccinazioni dei prenotati per le fasce di età che vanno dai 60 anni in su sono in via di completamento, ma una larga fetta di anziani non risulta ancora vaccinato, non avendo effettuato la necessaria prenotazione, forse per difficoltà a prenotarsi o perché impossibilitato a farlo. Per questo motivo abbiamo organizzato queste importanti giornate, sabato 1 maggio e domenica 2 maggio, dedicate alla vaccinazione.